Presentazione in grande stile per la Gesam Gas Lemura 2014-2015. Nella cornice di Piazza dei Mercanti, in centro città, le giocatrici bianco-rosse hanno letteralmente sfilato, come in passerella, fra gli applausi del pubblico e dei numerosi tifosi presenti. Prima della sfilata è stata presentata la Pantera Nera Lemù, la nuova mascotte della squadra bianco-rossa, che per tutto l'anno sarà presente al palazzetto nelle partite casalinghe della Gesam Gas. Dopo la coinvolgente e simpatica passerella delle giocatrici è stato presentato lo staff medico e tecnico del team con coach Mirko Diamanti, che ha definito così il gruppo a disposizione. Sicuramente è una squadra che avrà la possibilità di crescere, questo certamente. A che punto siamo oggi non lo so, lo verificheremo. Certo, sono subito verifiche molto importanti, subito con la squadra più forte, in una finale di un titolo importante, vedremo. Però credo che la cosa positiva è che è un gruppo che sta lavorando bene, per cui credo che ci siano tutti i presupposti per crescere e per fare quel campionato che i risultati poi lo diranno oggi, dire cosa noi possiamo fare penso sia difficile. Domenica prossima primo appuntamento con la finale di Supercoppa contro la Famiglia Schio in programma alle 18 al Palacampagnola.